750 volontari da tutta la Toscana si sono dati appuntamento per la prima conferenza regionale del terzo settore promossa dalla regione toscana in collaborazione con il CESVOT e il forum del terzo settore al Mandela Forum di Firenze. A salutarli il presidente Enrico Rossi e l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella prima dell'avvio dei lavori dei 30 tavoli dedicati a 10 temi tra cui identità, mission e bisogni del terzo settore alla luce anche della recente riforma. Il presidente Rossi ha ricordato le leggi fatte sul ruolo del volontariato in emergenza urgenza e sulla cooperazione sociale e ha annunciato una nuova iniziativa legislativa della regione in materia di volontariato. Vorrei prima di terminare la legislatura rimettere insieme tutti questi pezzi che ho sommariamente rammentato e riconoscere a questo settore il ruolo di protagonista nella coprogettazione con le istituzioni Toscana con le istituzioni toscane e in particolare con la regione. Il volontariato in Toscana conta 6.500 iscritti ai registri regionali ma allargando lo sguardo a tutto il non profit il numero sale a 20.000 attivi in ambito sociale, sanitario, sportivo, ambientale e culturale. Firenze, Lucca, Pisa, Arezzo e Livorno le province con più organizzazioni. Un momento direi importante di crescita per tutti e per rafforzare, utile per rafforzare un rapporto che la regione toscana ha sempre avuto e vuole continuare ad avere con un mondo che per noi non è certo da tassare ma anzi è da valorizzare e da premiare. La prima conferenza regionale del terzo settore è l'evento finale di tre conferenze preparatorie che si sono svolte a Pisa, Firenze e Siena, un'occasione di confronto preziosa per il terzo settore toscano. Vedere tutto il nostro mondo, tutte le nostre realtà convenire in un unico luogo dove si discute, si parla di futuro, si parla di solidarietà, di cultura della partecipazione, di democrazia è uno sguardo fantastico rispetto anche ai messaggi negativi che purtroppo nella società attuale emergono ogni giorno. Grazie